E' una delle passeggiate a piedi o in bici più belle della nostra città, il lungomare dell'Isippo che ospita anche manifestazioni importanti come la Colle Marathon che si terrà in questo fine settimana. E proprio per questo motivo i cittadini che abitualmente la frequentano vorrebbero che la situazione, soprattutto nella parte d'ingresso della camminata, venga migliorata con arredi urbani e maggiore cura sia della siepe che dell'aviole che la costeggiano. Un po' tutto perché è proprio brutto, è un'entrata proprio orribile. Anche allargarlo un pochino, se no va bene, un po' più largo è meglio. L'imbocco di questo passaggio era diventato molto ristretto e quindi adesso ho visto che in occasione della Colle Marathon hanno sistemato. Magari rimettere quei fili dove mancano, magari viene un po' meglio, se no è bellissima la passeggiata. Quello che riguarda questa splendida passeggiata, soprattutto l'ingresso però, c'è secondo voi da migliorare qualcosa? No, diciamo che abbiamo pazienza, quindi attendiamo con ansia che sia migliorato, si può sempre migliorare. Forse là dove sono quei ragazzi, dove fanno quei lavori, c'è più spazio, magari una panchina si sarebbe bene perché mica tutti sono ragazzi. Io vorrei fermare, anche per prendere una boccata d'aria di mare, bisogna stare sempre in piedi. Ho fatto prima con il sindaco e gli ho detto che doveva mettere delle panchine verso la fine, proprio per stare seduti, per stare anche quanto è l'estate. Un impegno quindi a migliorare che il sindaco Seri ha messo già in agenda, con interventi che renderanno ancora più bella e suggestiva questa finestra sul nostro mare. Tra poco, dalla prossima settimana, partiranno i lavori per adeguare e migliorare anche la prima parte della passeggiata, dove ci saranno sei nuove terrazze, che saranno delle aree di soste, dei bel vedere, con delle sedute, quindi ci si potrà anche fermare, che renderanno ancora più piacevole la passeggiata, rendendo più ricco questo scorcio di città, che è quello del porto turistico, che fiancheggia il mare, che è piacevole da fare sia nelle belle giornate, ma anche in quelle giornate invernali che danno le sue suggestioni. Quindi questo penso sarà ancora un nuovo biglietto da visita per la nostra città, che potrà essere gustato dai fanesi, ma anche da chi deciderà di venire a fare le proprie vacanze nella nostra città. Grazie a tutti.